gentili telespettatori buona giornata giorgetti sulle reaperture dice volevamo di più ma va bene così e andiamo avanti abbiamo influito e intanto salvini esulta per il successo perché alla fine passa la linea del buonsenso la linea della logica si riaprono da mercoledì già si sposta l'orario alle 23 dal primo di giugno si potrà stare al ristorante anche al chiuso anche la sera al chiuso all'aperto nelle ristoranti nelle gelaterie nei bar nelle pizzerie intanto è un passo in avanti verso le reaperture dice giancarlo giorgetti ministro per lo sviluppo economico il numero 2 della lega amico personale del leader matteo salvini appena finito in nottata al consiglio dei ministri il cdm pochi istanti prima di entrare a una cena all'ambasciata tedesca sembra soddisfatto dell'accordo raggiunto con alcune riserve il giornalista gli chiede lei è stato alla voce delle categorie economiche che cosa ne penseranno dice noi abbiamo spinto in tutto questo periodo per ottenere qualcosa in più i numeri sono confortanti e dunque il senso di questo decreto è stiamo per riaprire da questo punto di vista è una buona notizia e allora il giornalista dice ma perché non non sembra poi così soddisfatto a vederla e lui dice perché noi lavoriamo noi avevamo posto anche altre questioni siamo rimasti un po da soli a fare questa parte ma quello che ha stabilito il presidente draghi va bene dice perché siete rimasti da soli e forza italia chiede il giornalista dice beh francamente dice francamente non pervenuta francamente mi sarei atteso qualche sostegno in più coerentemente con le posizioni che leggo sui giornali quindi giorgetti dice come sui giornali dicono a wii wau e al consiglio dei ministri zetti né una parola praticamente non pervenuti dicono dice proprio giorgetti ma voi che cosa chiedevate in più chiede il giornalista beh l'orario del coprifuoco noi lo vedevamo in maniera diversa l'idea era i locali chiudono alle 23 ma si dia la possibilità di rientrare successivamente ma questa proposta non è stata accolta cioè chiudi alle 23 poi alle 23 comincia a camminare verso la macchina poi prendi la macchina vai a casa arrivi magari a mezzanotte insomma con questa scusa poi alla fine sarebbero rimasti tutti in giro dice beh io arrivo dal ristorante un attimino il tempo di prendere la macchina quindi questa idea viene poi bocciata ma non c'è il sostegno di altri partiti neanche di forza italia quindi il giornalista dice ma voi volevate cancellare il coprifuoco beh dice in ogni caso abbiamo chiesto e la cosa sarà ribadita nel decreto che quando una regione ha acquisito lo status di zona bianca il coprifuoco non c'è più questo significa che già oggi per diverse regioni c'è la possibilità di guardare al futuro con altri occhi e il coprifuoco dunque in parecchi casi finirà prima di quanto non dica la regola generale e la paura che viene sconfitta dalla realtà perché molte regioni sono sulla soglia del 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 bianco e pertanto con la zona nella zona bianca il coprifuoco andrebbe a decadere e poi il giornalista dice che ci sono delle questioni adeperte per esempio la finale di coppa italia atalanta juventus e l'inaugurazione della stagione all'arena di verona dice ma è come se me ne fosse dimenticato sollevato io le due questioni e dunque dice dunque andiamo verso un'ordinanza di deroga è chiaro che questi eventi che pure hanno un interesse nazionale sarebbero impossibili da far svolgere in presenza di un coprifuoco ma il giornalista poi gli chiede scusi ma se c'è il coprifuoco come misura di sicurezza e di argini alla pandemia le dereghe non sono concettualmente strane cioè diciamo la deroga per con tutto il rispetto per i tifosi la deroga per atalanta juventus facciamo ridere i polli no c'è tutti a casa nessuno può uscire è però c'è atalanta juventus no riempiamo lo stadio con 50.000 persone il giornalista gli fa capire gentilmente ma scusi ma la deroga un coprifuoco è alquanto strano gli dice ma dice lo sono è quello che ho voluto far notare ma qui si è fatto valere il principio che i biglietti sono nominativi e dunque è possibile verificare che non ci siano abusi in ogni caso ci sono parecchi segnali di riapertura i negozi nei centri commerciali saranno aperti sin dal prossimo fine settimana qualche impianto di risalita ancora potrà aprire i ristoranti hanno una data per la riapertura anche al chiuso e alla sera beh e i proprietari delle discoteche abbiamo visto nel video precedente che le discoteche manco se ne è parlato dice vero per loro al momento non c'è nulla e dunque come ministero allo sviluppo ho chiesto al ministro daniele franco che nel prossimo decreto leggi sostegni venga stanziata una somma ad hoc a favore di tutti gli esercizi chiusi per decreto una forma di indennizzo nei loro confronti è stata la mia specifica richiesta io personalmente mi chiedo io quante discoteche saranno ancora in piedi passato tutto questo quante discoteche potranno ancora aprire quante non saranno fallite il giornalista poi dice quando lei dice che si è ritrovato da solo è perché ci sono stati dei chiusuristi il ministro speranza ha invitato alla cautela dice guardi io credo che non abbiamo rappresentato un sentimento diffuso tra gli italiani che peraltro era partito già da varie settimane io credo che la nostra posizione abbia effettivamente cominciato a fare breccia dare qualche sicurezza sul ritorno alla vita per tutti in considerazione di numeri che migliorano e che vanno confermati detto questo roberto speranza fa il ministro della salute e per un ministro della salute sarà pure che probabilmente le preoccupazioni non sono mai a sufficienza se io faccio lo ministro dello sviluppo economico devo invece rappresentare le categorie private delle possibilità di lavorare è giusto che in consiglio dei ministri ci siano tutte le voci io credo che vada bene preoccuparsi per la salute purché questa preoccupazione non diventi paura e si finisca con il vedere fantasmi dappertutto insomma lo dica alla fine soddisfatto chiede il giornalista del corriere one della sera dice beh io credo che noi abbiamo fatto la nostra parte e che questo abbia portato a qualcosa la sintesi è stata più prudente rispetto a quello che chiedevamo noi ma la macchina va nella giusta direzione sì questa l'analisi di giorgetti è corretta nel senso la lega ha chiesto di più per ottenere quello che si è ottenuto no la lega ha detto apriamo tutto ma alla fine alla fine alla fine cosa volevo dirvi che si è comunque riaperto la lega puntava a spostare l'orario le 23 ha detto cancelliamo tutto non so come quelli che puntano una cosa grande per poi ottenere realmente quello che chiedevano io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata e possiamo vederci tra una ventina di minuti per un altro video qui sul canale poi ci sono siamo anche in tiktok teleitalia seconda rete su youtube e in facebook teleitalia grazie a tutti quanti e buon proseguimento di giornata arrivederci e grazie 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 Grazie.